Lei ci sarà all'inaugurazione? Non lo so, sinceramente. Cosa ne pensa dell'opera? Penso sia una buona opera. E tutti questi anni per realizzarla? È una cosa poco felice, perché credo che molto probabilmente si poteva fare anche prima. Ci abbiano messo tutti questi anni, onestamente a Teramo è sempre così. Ogni opera si programma dopo un ventennio magari e ne vediamo la luce. Tutte queste inaugurazioni non servirebbero, servirebbe molta più celerità e molta più attenzione alla città che è in un degrado pazzesco. Tutti questi anni che ci sono voluti per completare quest'opera? Questa è una cosa proprio la scena, non è solo quella, ma tante altre cose ci sono a Teramo. Gli elogici si riprende, visto l'8-0. L'opera dovrebbe essere dell'ANAS? Una volta realizzato, anche per snellire il traffico nel centro, perché per entrare a Teramo e per andare su a Lacona bisogna attraversare tutta la città, invece così dopo è veloce. È una inaugurazione aperta a tutti, anche ai cittadini, lei ci sarà? Come no, senz'altro. Questo è un anniversario che ricorderemo negli annali della città di Teramo. Cosa ne pensi? È una cosa buona, no? Che insomma non passa più per Teramo. Tutto quel traffico, tutte le cose che ci sta, almeno passi di là, il traffico si alleggerisce. Dopo tanti anni. Ecco, del fatto che ci sono voluti tutti questi anni, cosa ne pensi? Tutti anni lo sappiamo la politica com'è, no? Tira oggi che viene domani. Finalmente si è arrivato a questa apertura, perché io mi ricordo che se non era per pannella che si mise davanti alle ruspe quando doveva cominciare, vent'anni fa sarebbe già stato finito il progetto da parecchio tempo. Dopo trent'anni, oramai, sarebbe quasi ora, diciamo, di dare un'opera compiuta alla gente e di pagare i vecchi debiti che hanno. L'ANAS con me ha un debito da ventitré anni e ancora non lo copre. Questo è lo stato nostro, che loro vogliono i soldi, il suo è suo, il nostro è anche suo. Dopo l'8-0 io penso che l'obiettivo primario per Teramo è il posto di lavoro per i giovani, perché se lei vede questa città è vuota, i giovani stanno scappando tutti quanti, quindi sia Brucchi con tutti i politici si devono andare da fare, perché qua Teramo è finita, guarda.